Che ti metti a fare? E se mi schifo ti mette a quanto ti piace andare nella pasta? No, no, solo il po' Ah, la pasta non avevamo 5-6 po' La pasta è la pasta, la pasta è la pasta E' un po' 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 Chec' sta poco À, la pasta è la pasta Ditò che sia per il momento Che consiglio? Ciao Allora, Bill so Ein Monsieur La scrittura La scrittura Grazie.